Buongiorno, sono Emanuele Montomoli, sono professore ordinario di igiene e medicina preventiva all'Università di Siena e fondatore, nonché responsabile scientifico, di un'azienda start-up di successo che si occupa di scienze della vita, di life sciences, che si chiama Vismedieri. Io mi occupo di vaccini e di vaccinazioni, di sanità pubblica e di malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni. Quest'anno i vaccini sono al centro dell'attenzione e dell'opinione pubblica per l'appunto dato il nuovo decreto di obbligatorietà per le vaccinazioni prima dell'ingresso a scuola. Durante l'evento Bright, che noi abbiamo sempre sopportato con entusiasmo nel corso degli anni, cercheremo di chiarire ai genitori dubbiosi tutti i vantaggi che le vaccinazioni hanno per i loro bambini. Cercheremo di chiarire il perché i bambini devono vaccinarsi e che tipi di vaccini i bambini sono chiamati a fare prima di andare a scuola. Inutile dire che il sottoscritto del gruppo di ricerca che per esempio le sto coordinando crede molto, molto, molto nelle vaccinazioni. Le vaccinazioni sono storicamente il secondo intervento di sanità pubblica più efficace nella storia dell'uomo. Dico sempre ai miei studenti a lezioni ed è quello che vorrò trasmettere anche durante la serata Bright perché le vaccinazioni sono seconde solamente alla potabilizzazione dell'acqua come intervento migliorativo della vita nella storia dell'uomo. Grazie a tutti!